Ci dicesti, vorrei parlarvi delle mie esperienze che ho fatto praticamente in Commissione Vigilanza Rai per renderli partecipi. Ecco signori, io vi dico, è fondamentale che ognuno di noi, come per esempio Mariano Peluso, come i nostri portavoce, possano anche crearci il contatto tra noi attivisti e spiegarci la macchina amministrativa come funziona, perché la crescita che possiamo avere, l'arricchimento, non solamente soltanto dalle esperienze che possiamo acquisire individualmente, ma ovviamente dalla possibilità anche di interagire tra di noi. Noi fondamentalmente siamo qui in uno stadio e sostanzialmente siamo di tifosi e abbiamo praticamente la responsabilità di vedere se siamo capaci tra questi tifosi di creare la squadra. la squadra. Lei che prima ci diceva una cosa importante, parlava praticamente di poter avere l'opportunità di entrare con 25 seggi. Ecco, questo elemento significa, a me può aprire diciamo un attimo una confusione, però per molti di lui bisognerebbe capire che cosa significa il rapporto tra possibilità e ovviamente missione della forza che ha il movimento sul Napoli. Questo significa che praticamente in effetti 25 consiglieri significa prendersi la città, perché per avere 25 consiglieri con il sistema elettorale che abbiamo oggi significa avere la maggioranza. è chiaro a tutti. Ok? Su 40 consiglieri, su 40 consiglieri, si prende il 50 più, prende praticamente in quel sito esempio. Ok? Quindi è chiaro, diciamo, corretta, chi ovviamente avesse praticamente un'informazione un po' più parziale, ho aperto questa finestra di attenzione per collegare la funzione del nostro impegno è anche portata a ciò che riusciremo a trasmettere sui territori e per fare ciò dobbiamo non trasporare, signori, anche la funzione che oggi come oggi questo comune è ovviamente quella che è stata, diciamo, la demolizione fatta da Bassolino sulla potenzialità delle municipalità, anche se ovviamente non sapremo se la legge elettorale a novembre porterà delle modifiche. Siamo consapevoli anche che in effetti questa riduzione che è avvenuta da statuto nella legge elettorale ha portato praticamente in effetti la riduzione dei consiglieri a 48 insieme al sindaco e ovviamente il vice sindaco, mentre rimanerano a 60. La stessa cosa accadrà probabilmente nella spending review anche con l'accortamento delle municipalità, però oggi se questa legge elettorale resta in piedi, signori sappiate che nelle municipalità se dovessimo appunto come squadra convincere i napoletani, guardate che noi abbiamo materialmente in baldo 210 consiglieri di municipalità. Cosa significa, signori? Significa che l'azione di raccordo tra la buona funzionalità della parte vincente del comune con i territori sarà ovviamente anche deputata alla visione di questa storia. Perdonatemi se mi sono allungato su questa visione, ma collega materialmente tutti i punti dell'ordine del giorno. Quindi la tematica che dobbiamo portare avanti è fondamentale, il progetto è la prima cosa che ci deve appassionare, ma non dimentichiamo che conoscere come applicarlo il progetto, essere consapevoli delle funzioni e della capacità che si ha una volta entrate nelle istituzioni non deve essere un elemento da non tener conto, perché il ritardo di questa conoscenza potrebbe essere un elemento da non tener conto. Francesca e Margherita Calice che sono quelli che non hanno parlato. Giulio facciamo intervenire queste altre due persone e poi vediamo. La bui di Giancarlo Piesto. Non hai parlato proprio? Questi tre non hanno parlato. Vai. Chi parla? Parla Francesca. Le cittadine le hanno parlato. Questa è conoscenza. Silenzio, per piacere. Allora, vorrei dire due parole rispetto a un progetto che ho in testa da un po' di tempo. In realtà è il punto di vista di tutti i progetti, perché io mi sono immaginata che cosa è una città. Questa è una domanda che mi feci già quando dovevamo fare le nostre comunali all'inizio. Cioè la città, in fondo, è un luogo nel quale si svolgono le relazioni e se le relazioni e i collegamenti tra le persone funzionano, la città si risveglia. In realtà la camorra, la malavita, riesce ad attecchire perché deprime le persone. Cioè se le persone sono depresse e gli si toglie la voglia di uscire, di vivere, no? Un po' come diceva anche Stefania, la camorra riesce ad attecchire. Allora, creare una città di relazione è una città inclusiva. Questo concetto di inclusione, secondo me, è importante perché non è integrazione e inclusione. Cioè vuol dire accettare e deporre dentro, diciamo, gli esclusi. Allora io mi chiedo, chi sono gli esclusi della città? Gli esclusi della città sono, per esempio, le donne. Com'è una città che può uscire le donne da sole, tranquillamente? Per esempio i bambini sono i grandi esclusi nella città, gli animali sono i grandi esclusi, gli anziani, no? Non sono i disabili, perché la disabilità, per esempio, è anche un'esclusione mentale, molto spesso, no? Perché non è soltanto creare le barriere architettoniche, ma anche includerli culturalmente. Allora io avevo immaginato di fare un tavolo della città inclusiva proponendo, prima di tutto, di fare tra di noi, se ci fossero i sociologi, qualcuno, una sorta di piccolo questionario da metteremocivoli i famosi gazebi e chiedere ai cittadini qual è per loro un'esclusione, quando è che loro si sentono esclusi e in modo da raccogliere un po' con le voci delle persone e progettare un'idea, immaginare poi come se fosse il centro di una ruota. Una donna esclusa cosa fa? Cioè ci danno, per esempio, il fatto dell'allattamento a richiesta, ma ci sono i posti per allattare, cioè io quando allattavo la richiesta devo togliere e mostrare la città e il pubblico perché è una cosa che è brutta per una donna che deve allattare, no? Oppure la donna che esce da sola la sera, chiediamo a chi fa la viabilità sostenibile se con il bilancio, e qua mi chiamavo dentro Rita che oggi era fantastica a portare all'alcolismo quelli del comune, se si può fare per esempio una tariffa speciale per le donne, le tariffa dei tassi, per il serale e per gli adolescenti, per esempio, chi ha i figli adolescenti che a scuola sera? È un casino andarvi a prendere a luna alle due di notte e si parli con i cappotti, no? Allora immaginiamoci, no, di fare per esempio un tassi comunale per i ragazzini che toliscono la sera e torna, cioè creiamo una città inclusiva in maniera tale che la gente vive, si sente forte, rispettata e allora volete insomma la venti Giancarlo e la venta passiva Vai Giancarlo, ti lenta per piacere perché la vostra conosce Vai Giancarlo, vai Allora, secondo me noi qui ci stiamo muovendo in un modo che può andare bene e può andare male. Va male quando, avendo impostato le cose sull'onestà, escono dei comportamenti che poi tolgono fiducia. Quando si protesta contro questi comportamenti che tolgono fiducia si dice che si crea una lotta interna, ma non è vero perché noi se dobbiamo portare nella società la democrazia, dobbiamo essere noi una organizzazione democratica. Quello che mi ha irritato è stato di vedere che ci sono, se ho capito bene, delle decisioni che vate dall'alto che in un sistema democratico avrebbero dovuto essere soggette a posazione. In particolare mi riferisco al fatto di proibire le riunioni per municipalità e se ho capito bene di proibire le riunioni per gazzeco, quindi non solo, ma poi di proibire anche le riunioni fatte al di fuori di questo sistema di taboli. Quindi queste mi sono sembrate delle decisioni calate dall'alto su cui ho sentito molti mormorini e su cui non ho saputo trovare una giustificazione perché a livello strategico, a parte il fatto democratico è che le decisioni calate dall'alto dai portavoce invertono la questione, il portavoce deve ascoltarla, poi deve portare la nostra voce, ma lei che deve calare dall'alto è una decisione e noi dobbiamo fare il suo portavoce, è il contrario. Quindi noi abbiamo bisogno che, soprattutto quando sono delle decisioni di carattere strategico, di immagine del movimento in città, che cose vengano messe ai punti, la parola condivisione non significa niente perché condividere un'informazione è una cosa, condividere una opinione è un'altra, allora per vedere se si condivide un'opinione si vota, mentre per condividere un'informazione basta dirne la santa. Allora quindi noi dobbiamo condividere le opinioni e per condividere le opinioni dobbiamo dire quante persone condivideranno queste opinioni, in questo significa votare. Ora, a livello strategico, se noi ci facciamo mettere in condizioni da non fare più il Gazzepo perché dobbiamo venire a fare questi tavoli, non si possono fare, non si possono fare, dobbiamo decidere noi, no, non mi interessa, io voglio discutere la questione. Allora, quindi praticamente noi abbiamo che perdiamo il contatto con il territorio, noi dobbiamo ascoltare i cittadini, e per esempio ci permettono di ascoltare i cittadini, se noi ci tagliamo le gambe per una decisione calata dall'alto, che è grave e che merita una profonda discussione e delle risposte chiare, noi ci riduciamo a parlare dell'argomento principale quando mancano 5 minuti alla chiusura del quadro, perché io dico che bisogna commucare una cittadina su questo argomento. Grazie mille, grazie mille. Volevo anche tirare un po' la fila dei discorsi, abbiamo parlato di visione, alcuni lo condiviscono il fatto che si parta da una visione di insieme per raggiungere il particolare, alcuni sono abituati al procedimento inverso, in realtà non è importante il procedimento, ma è il risultato, quindi creare questa serie di tavoli che poi porta alla visione di insieme, al macro tema, più o meno porterà lo stesso risultato, il macro tema qual è? Quello che collega tutti i temi dei tavoli, la sicurezza, non tanto la legalità, perché la legalità è un concetto diverso, la legalità riguarda il nostro sentire, il nostro porci rispetto al concetto di onestà, quindi la legalità è affare nostro. La sicurezza non è purtroppo affare nostro, perché noi subiamo una serie di pressioni e le subiamo in maniera istituzionalizzata. Noi purtroppo questa qualità della vita, a cui legittimamente abbiamo questa intenzione di tendere, da secoli ci viene negata questa qualità della vita, questa dignità della vita, perché istituzionalmente noi dobbiamo stare sotto una cappa di illegalità, che non è la nostra, non è il nostro ad abbattarci, rubacchiare, no, è subire proprio un sistema che ci viene imposto e appunto calato dall'alto. Addirittura questa Napoli, che è questa donna violentata di cui parlava Stefania Sannino, che siamo noi, ha addirittura accettato di pagare tre volte tanto quello che tutti gli italiani pagano di assicurazione. Ma noi siamo cittadini di serie B, davvero? Come abbiamo fatto ad accettare questa imposizione? Questo siamo, siamo persone che subiscono perde forze e non può essere, noi dobbiamo riappropriarci della nostra dignità. Il cittadino portavoce che andrà a rappresentarci in comune non andrà a prendersi la città, andrà a restituire la città ai cittadini e i cittadini devono fare la loro parte. Noi non siamo che i portavoce, portavoce di cittadini, i cittadini devono essere con noi, ci devono supportare, ci devono seguire, devono venire a riprendersi la città, perché i portavoce vanno a servire, a fare da tre d'unione, da filo rosso, da congiunzione, ma nessuna ambizione ci deve portare ad adambire a 25 seggi, a 150 consiglieri. Noi dobbiamo portare la città di nuovo a misura di cittadino. Questa è la mia personale ambizione e mi auguro che sia l'ambizione di quelli che ci rappresentano. Perché è stato detto il gazebo, la pressione gazebo, e non è democratico che adesso ci dicano di non fare il gazebo. È democratico che ci sia la voce di chi è pro e di chi è contro. Personalmente è stata espressa la voce di chi è contro l'abolizione dei gazebo. Io sono a favore, perché i gazebo sono stati, finora, il nostro modo di portare il nostro lavoro sul territorio. Se abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo guadagnato la fiducia dei cittadini, adesso ci dobbiamo dare da fare, dobbiamo crescere, dobbiamo imparare a fare la nostra parte, perché se no non andiamo da nessuna parte. Perché non è l'ambizione che ci porterà a restituire la città ai cittadini, ma le competenze le dobbiamo acquisire. Quindi tavoli di lavoro benvenuti. Beh, giuro perché ci sono un po' di domande, ci sono... Poi chiudiamo alle 8 e ci rivediamo poi la prossima settimana. Che data è la prossima settimana? 10. 10. 10. 10. Allora, per un 10 con davanti da 1. No, no, allora, facciamo... 10. Facciamo... 10. 10. 10 sarà complicato. No, perché le di più tardi. Allora, va bene, facciamo... 10. È l'unice. È l'unice. È l'unice. Facciamo... Facciamo una... Una sì. Ragazzi, tutti no? Siamo pari facendo. Fabio, devi chiudere. È finito, dai. Perché così non vediamo che siamo... Siamo tutti, siamo... Allora, primo, i tavoli di lavoro era esattamente un modo per iniziare, per dire, ok, cerchiamo di partire. E penso che su questo aspetto oggi ci siamo riusciti, perché da stamattina a ora abbiamo fatto, credo, una bella giornata. Credo che lo sentiamo un po' tutti, questo. Secondo, i tavoli di lavoro non sono uno schema chiuso da nessun punto di vista. e pensavo, come Laura ha detto, che la visione generale un po' dopo tutti questi anni l'avessimo già e che dovessimo iniziare ad entrare un po' più in profondità rispetto a degli argomenti. Ma questo può essere ribaltato. L'importante è che lo facciamo sempre tutti insieme in una riunione come questa. Nella lettura del programma insieme, nella scrittura del programma insieme, nel ribaltare i tavoli di lavoro insieme, senza fare più le cose separate. e questa cosa era stata anche un po' decisa non nella riunione della settimana scorsa, ma nella riunione quella che facemmo a luglio al centro direzionale dove ci dicevamo le municipalità ci sono sembrate all'inizio una bella idea ma poi alla fine ci siamo vettizzati in uso alla sua municipalità magari non si veniva a fare riunione generale si faceva un cartetto nel territorio e si chiudeva là e si faceva una riunione di strette. Non erano assemblee di quartiere erano riunioni molto ristrette. Abbiamo detto siccome non ha funzionato perché ci siamo rivisti ci siamo arrabbiati mille rivoli non è andato per la sua strada cerchiamo di riportare a una centralità tutto per avere la visione della città per riuscire a elaborare il programma per riuscire a lavorare insieme per stare insieme e conoscerci meglio. Era questo da qui è partito qui non c'entra niente la democrazia qua c'entra il buon senso del fare le cose abbiamo sperimentato una cosa non ha funzionato cerchiamo di sperimentare un'altra in modo migliore tutti insieme questo riguardo invece ai gazebo con uso del simbolo del Movimento 5 Stelle non voglio più dire questa riunione arrabbiandoci o perché abbiamo fatto una bella giornata però ve lo dico in modo che sia chiaro a tutti per l'ennesima volta l'ho scritto c'è anche sulla lettera che per chi non è lista certificata e per chi non è portavuce non è possibile usare il simbolo del Movimento quindi significa che fare un gazebo con il Movimento o raccoglie le firme su petizioni nazionali in tutta Italia ci saranno i progettimenti anche in tutta Italia come in Italia sono stati non puoi monitorare tutto quindi chi raccoglie firme per il reddito di cittadinanza dove non c'è l'iniziativa di raccoglie firme nazionali per il reddito di cittadinanza con il Movimento 5 Stelle è illegale è abusivo avevo già chiesto sul Mitac sicuro che ha fatto il gazebo con la raccolta firme e mi ha letto di portare questi moduli perché voglio vedere come sono state raccolte queste firme a che titolo si chiede un documento e io voglio questi moduli probabilmente questi moduli non sono stati portati quindi questo è un passaggio grave per cui gazebo con la raccolta firme che non siano nazionali non si possono fare ma che non siano magari coordinati per esempio Sergio Puglia era rilasciato raccogliamo le firme perfetto la raccolta firme è finita già da un po' non possiamo continuare a raccogliere le firme sull'RCA se è un'iniziativa finita anche perché libertà massima ma cerchiamo anche di essere responsabili e comprendere un poco che non possiamo ma come è arrivata alla Camera con l'iniziativa di Sergio si era collegata al Senato la raccolta firme quella è finita quindi io ora l'ho chiesto su Mitac vi chiedo ufficialmente chi ha fatto questo cazzetto che sabato che sabato era piazza nazionale che raccoglieva le firme con l'olvo del Movimento 5 Stelle su petizioni due che non esistono una chiusa e una deve portarmi i moduli quindi lo dico qua questa è l'ultima volta che lo dico è l'ultima volta che lo dico di quello devono essere tornati perché 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 il simbolo non può essere usato altra cosa è che siamo in un'unione e diciamo noi dobbiamo informare la cittadinanza sull'acqua pubblica dobbiamo dare del materiale dobbiamo spiegare allora come Meetup possiamo tranquillamente fare un gazebo e spiegare le cose ma no che una cosa sostituisca l'altra i costi si raccolgono come facciamo la colletta è bisogno di soldi ci abbiamo la riunione servono a rilasciare delle iniziative e da cui i soldi poi abbiamo sempre fatto noi sabato diciamo un gazebo non possiamo mettere la bandiera del volante e che volevo fare allora io penso che ci si 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 questa cosa non c'è più di me da discutere perché il logo non può essere usato tranne da chi ha la vostra voce e da chi è lista certificato tutto il resto sarà solo gestito tramite campagne nazionali campagne regionali dobbiamo raccogliere i diritti quella non la possiamo fare ma non si esce da questo se non è questa una discussione o una cosa che possiamo decidere o cambiare perché è una cosa nazionale e vale da Trento a Palermo Mariano è l'unico riconosciuto la decisione di averci tolto uno strumento così importante perché uno non c'è mai stata questa possibilità è una regola che c'è da sempre solamente che io l'ho ribadita per ritornare ai principi che ci hanno sempre votato secondo secondo ci sono migliaia di segnalazioni in Italia di chi fai affari propri con il logo e il nome del Movimento 5 Stelle senza nessuno senza avere nessun diritto e in ogni caso il simbolo del Movimento 5 Stelle viene dato per i livelli e per le liste più complicate è stato sempre così solo che siccome tutti hanno usato a piacimento dobbiamo tornare anche a un salattivismo che non è per forza il Movimento 5 Stelle sono cittadini che fanno le cose e dicono cosa fanno e qual è il bene poi quando si vogliono candidare usano uno strumento che è il Movimento 5 Stelle un partito ragazzi un partito il PD porta sempre questa bandiera ovunque non abbiamo bisogno della bandiera abbiamo bisogno di quello che siamo di trasferirlo se poi lo vogliamo fare all'interno delle istituzioni il Movimento dà uno strumento a tutti ed è un contenitore che vive e persiste per quel periodo particolare di elezioni sono le cose velocissime e basta però poiché almeno secondo me ma spero che sia un discorso condiviso solo i tavoli tecnici senza la comunicazione senza un rapporto bidirezionale tradizionale con il territorio per quello che ci siamo sempre raccontati cioè che qui non è che siamo noi a calare un programma è il programma che nasce dalla cittadinanza allora si pensava attraverso Mariano che invece il simbolo lo può usare di farvi il gazzetto ma con un contenuto condiviso capito che voglio dire? allora possiamo trovare una via mediana per esempio se vogliamo fare delle medizioni su wifi libero oppure su alcune strutture sportive andiamo insieme a fare il gazzetto questo è quello che sto cercando come realizzare di torna di Luca Luca allora il meetup di Napoli Luca 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 il meetup di Napoli sta scrivendo il programma il meetup di Napoli fa il gazzetto per la scrittura del programma perché vuole suggerimenti dai cittadini andiamo a chiedere facciamo un incontro facciamo un incontro come oggi dicevo al tavolo centro storico con i commercianti per le attività produttive non è bisogno di nessun logo non è bisogno di niente il meetup di Napoli sta facendo questo mi vuoi dire tu che cosa pensi per il centro storico mi vuoi dire tu che cosa pensi di bagnole cittadini questo è quello che facciamo petizioni non se ne possono fare petizioni si possono fare nel momento in cui in assemblea così tutti quanti insieme decidiamo di raccogliere le firme per fare una cosa ma sarà sempre una regola che è una versione una versione no questa è una regola è una regola è una regola è una regola che è vanza da sempre non è mai esistita a memoria mia quindi tutta la memoria del diato del movimento che si auto-organizzassero all'improvviso racconta non è mai successo anche l'unica forse che abbiamo fatto era quella sul prolungamento degli orari dell'ascorto pubblico facciamo due riunioni grandi decidiamo che si poteva fare e abbiamo detto facciamo gli strumenti che ci sono in comune raccogliamo le firme che non erano neanche col documento perché era una petizione popolare le portammo le presentammo le protocolliamo come mi capo Napoli facciamo il video raccolte 7000 firme e facciamo le iniziative col trenino con tutti quanti non c'era il simbolo del movimento va bene ma se in un quartiere ci sta una scuola con il gradino rossi e noi vogliamo fare la petizione per far riparare il gradino dobbiamo convocare una cittadina per avere il permesso di fare di spiegare a questa alla seccura dipende come la vuoi fare se la vuoi fare come invitati in Napoli se la vuoi fare come Giancarlo Camminchi tutte le persone del quartiere fai quello che vuoi è logico ma allora quindi io prenoto una decina di cittadine per fare delle petizioni locali per queste cose proviamo per me non funziona dico solo le cose queste qua ma c'è forse anche un aspetto che secondo noi è importante quale? secondo noi tutti poiché lo sappiamo tutti che la comunicazione è quella che passa nelle tv nelle radio è una comunicazione di stupida in questi anni in questi mesi fare il gazebo con il logo è servito soprattutto per dire che i ragazzi a Roma fanno questo per esempio ti dico sul reddito di cittadinanza anche lì forse c'è stato un cortocirpuito di condivisione sì forse sicuramente sì perché l'iniziativa non è nazionale non come quella di Sergio sull'RCA però si può anche sostenere e non è un'argomentazione sofistica o capziosa che voi giustamente tutti i giorni sui giornali o in tv parlatevi a me di cittadinanza allora io a me è capitato personalmente di non convincere di spiegare la vostra proposta di legge e poi alla fine alle persone che sostenevano che era assistenzialismo non averle convinte ma aver trasferito la bellezza di quel disegno di legge che giace lo ricordiamo al senato allora anche per comunicare le attività e lo si può secondo noi lo si può fare solo attraverso ovviamente chi può spendere il logo poi è ovvio che dipende dal modo con cui facciamo le cose perché se è la foto e diciamocelo alcuni gazzetti sono stati pure stanchi in questi giorni cioè stanchi nel senso di essere forse ridondati la metto così quindi facciamo una selezione accurata dei contenuti ma restiamo sul territorio Roberto perché è importante questa è la cosa che disunciava Giancarlo perché è il rovesciamento cioè sono i cittadini che portano la voce di quello che fanno il portavoce in paro onesto abbiamo detto che non vogliamo questa cosa qui allora perché la nostra attività deve essere ordinaria deve essere portare la voce di quello che stanno facendo loro ma se noi rifugiamo quello che fanno loro capulgiamo e diventiamo noi i potenti e allora vedi il suo problema che stanno a piccola inizia scusate ma è un'altra cosa che sono stati cagliati devo corregge cioè allora la stessa è importante che stessa hai ragione scordi la colpa di bomba di signale devo corregge l'incipazione che era l'onesto secondo me è un po' imprecisa che non si facessero più le municipalità l'abbiamo deciso quest'analisi non quest'estate ma il Mariglione del dicembre del 2013 una cittadina dai frati a quelle M.A. allora se noi abbiamo parlato tutta la serata di recuperare la legalità del pubblico poi siamo i primi che cominciamo a non rispettare la regola che sia quella nazionale del luogo oppure una decisione di assemblea questa cosa diventa generale e poi ci spieghiamo perché torniamo indietro ed è la classica cosa che viene attribuita all'accordo che abbiamo parlato tutta la serata allora da qui la domanda siamo pronti perché tutti sappiamo fare dei bei discorsi sul riacquisto della dignità e sul rispetto della regola e sul diritti e lo vero ma se stiamo in prima che ce ne freghiamo di quello che viene detto in un'assemblea ce ne freghiamo di tre regole tre tre ce ne ha il movimento non trentatele ce ne freghiamo e quindi questa inosservanza diventa la prassi e quindi per noi diventa la regola ma chiediamoci se siamo pronti noi innanzitutto a capovolgere il senso della legalità di questa città e quello che siamo la caratteristica tipica tristemente napolica sono perfettamente racconti però secondo me la verità sta nelle trame le posizioni io voglio io voglio io voglio un'altra città il problema anche qual è hai ragione fare spiegare il periodo di italianità non devi fare perché perché io penso una cosa il rischio qual è che come diceva Laura si riduca si riduca anche la fertilità dell'azione del meet up perché perché qual è il principio fondamentale la nostra diversità fondamentale è che tutto ciò la politica la facciamo noi cioè siamo noi cittadini io sono Francesca Mena che sta qua ed è fa politica nella sua vita nelle sue relazioni non fa la politica sono in gazebo allora che succede che quando io vado a trasmettere buone pratiche vado a parlare con le persone inizio a creare un innalzamento del livello culturale dei cittadini collettivo il nostro scopo non è andare al Parlamento il nostro scopo è elevare la coscienza cittadina collettiva culturale noi ci dobbiamo elevare ancora questo è il discorso allora stavo dicendo nel momento in cui no è inutile che fai la palla perché vedi il rispetto allora non ce l'ho e basta non ce l'ho fai mi finire non ce l'ho finito allora io stavo più meglio dicendo nel momento in cui il nostro lavoro è capollare ed eleva il livello di coscienza di contatto di consapevolezza nel momento in cui il Movimento 5 Stelle si presenta io ho cittadini che hanno il senso di quello che diceva lei ma com'è che io aggiovavate più e mi sono stata cioè la rivoluzione creare coscienza non con uno sguardo reattivo va qua con il Movimento 5 Stelle perché voglio la volta prossima non con uno sguardo in più io voglio una persona che ha coscienza ma quella dialettica si scusa tutto al piano scusassimo Massimo io vorrei parlare se mi è continuato lasciamola finita Massimo che parla Massimo non l'altro vai Enzo Allora due cose voglio dire una voglio dare una risposta a lei e l'altra voglio fare semplicemente delle domande chiare a cui chiedo delle risposte chiare così almeno noi sappiamo se dobbiamo vivere o morire quale fine fare riguardo riguardo la cittadina tu hai ricordato una cittadina del 2013 mi pare ed è giusto quello che hai detto è perfetto però io mi chiedo perché l'anno scorso a una cittadina dove erano presenti due parlamentari si è deciso qualcosa con doppia votazione Roberto se ne ricorderà due votazioni la prima è rifatta la seconda su richiesta ed è stato fatto sono state prese delle decisioni alla cittadina e se ne sono fottuti tutti di queste decisioni perché se volete datevi le note e vi trasmetto la cosa e informo tutto eri presente e tu mi chiedessi di fare la seconda votazione Roberto allora l'argomento lo ricordo l'argomento visto che non ve lo ricordate visto che non ve lo ricordate ve lo ricordo io fu fatta una decisione di scambiare i turni degli organizer dopo sei mesi un anno quello che sia dovevano vuotare mentre invece a Napoli c'erano gli organizer dai secoli di libero veramente ma togliamo eh io ma non ne fa niente voi ve li avete fatti ruotare perché non vi siete noi noi abbiamo fatto un'assemblea abbiamo avuto una votazione gli organizer che dovevano umanamente civilmente dire facciamo le votazioni per gli organizer si sono confermati ma non avete fatto una riunione più se questo è chiaro ma siamo siamo andati oltre poi se vuoi ti spiego in privato che cosa si è organizzato perché quello che è successo dopo è grave è grave faccio delle domande faccio delle domande che non sono solo femmiche ma sono domande che mi sono state poste perché mi è che lo dite allora il casetto per incominciare tu hai detto che non si può usare il simbolo la bandiera si può usare io cammino tutti i giorni per Napoli e chi mi conosce mi ha incontrato Mariano per esempio ne ha fede così sempre vado a fare una spesa al supermercato al cinema così posso continuare a farlo lo posso portare questo è un logo del movimento lo faccio per esempio è un simbolo va bene è possibile anche a tempo distribuire materiale informativo fornito dai parlamentari tipo per esempio l'RCA il problema relativo ai versamenti IMS sul distritto di settore e altri amicoli che hanno il logo del movimento sul manifestino ci vengono dati dai parlamentari per farne l'uso adeguato o dal logo li possiamo ritirare quello che è possibile farlo è quello che viene dalla Camera dei deputati con il Consiglio regionale allora se voglio diffondere se voglio una domanda un po' noi vogliamo fare questo se noi non li faremmo noi vogliamo distribuire l'informazione stranci di discorsi e interventi dei parlamentari li possiamo trasmettere al cittadino ci arriviamo dopo perché tu sai che io ho il problema di Napoli ci lavoro non mi fare queste domande ci lavoriamo allora ti dico quello che non puoi fare non puoi usare il simbolo per chiedere caldo non puoi presentarti al comune di Napoli a un assessore che direi che sarei il Movimento 5 Stelle non puoi fare non puoi fare certo il portavoce non dà la delica non serve il portavoce che fa parlare se poi si vuole portare un rumore di cittadini ok però non dà il tempo non esistono da questo punto di vista se io voglio raccogliere firme senza utilizzare il logo senza utilizzare il logo lo posso fare a titolo personale a titolo personale come faceva il cagano sul tappo lo recitiamo tutti in cima e qua ok ho detto senza il logo per cui senza il logo con una sempre al sempre al cazzepo posso senza il logo mettere manifesti che presentino problemi locali o di tipo cittadino esporti e portare la discussione al cittadino su quello che eventualmente si vuole fare senza usare il logo che siano faccogliere un'ultima domanda io ho chiuso un'ultima domanda io ho chiuso scusami un'ultima domanda io ho chiuso poi basta perché le risposte le ho avute tu poc'anzi hai detto giustamente facciamo la colletta il cazzepo costa per chi non lo sa 120 euro ogni volta che si fa la richiesta del cazzepo a meno che non sia per l'attività politica e chiaramente deve essere giustificata la cosa tu pensi che poi qui per esempio quando usciamo il conto non è mai saldato e io l'ho scritto che spesso andiamo a barra a fare le riunioni e alla fine chi si prende la conta deve integrare di tasca sua perché non si arriva mai a coprire 30, 40, 50 euro c'è qualcuno che mi smentisce? allora è un po' non immaginabile che si facciano la colletta ogni settimana per 3, 4 cazzepo che assomma circa 4, 500 euro a settimana per il cazzepo e si vadano a pagare i diritti sul cazzepo questo vuol dire questo vuol dire questo vuol dire chiudere il cazzepo 3 per 3 lo facciamo il cazzepo il cazzepo è stato il cazzepo è stato comprato da noi con la giunta tutto comprato da noi come sempre stiamo ma infatti non abbiamo fatto niente di particolare però però darci un appuntamento come possiamo fare per non spendere questi 400-500 euro e il cazzepo e il panifone è un cazzepo e posso chiedere l'autorizzazione del 9 del momento e questo è odanno ci vediamo ci vediamo non vi ritare l'appuntamento ragazzi ci vediamo poi vediamo la prossima vediamo dove magari qua da un'altra parte ci vediamo il meetup e organizziamo la riunione domenica 11 saluto saluto al meetup Napoli saluto al meetup Napoli, andiamo alla riunione ragazzi.